Allora Michele del Deserto, dove sei? Sai cos'ho di positivo da dire rispetto a questo gioco piuttosto che... Mi aspettavo un'arma... Piuttosto che Dying Light? Beverly Hills Dicevo, rispetto a Dying Light che fa bene questo Che fino ad ora, quelle pochissime missioni secondarie che abbiamo fatto Si intersecano comunque bene nel momento in cui sei di storia per dire Cioè, noi siamo andati fuori da casa di Emma e abbiamo trovato Curtis Ok, carino, mi piace il fatto che si sia... Intersecato tutto bene, no? Ma vai via! Dov'è? Porca puttana che male Ancora vivo sei? Vieni qua tu Adoro che adesso il calcio che facciamo fa un male assurdo Fa davvero... Un sacco di... Male Comunque ho deciso che appena troviamo armi viola o addirittura arancioni E ci spero Morto? Chi è? Dai! Come faccio a disattivarlo? Porca miseria che male C'è modo di aprirlo questo? Che è? Ho fatto tutto sto casino per niente? Fantastico Comunque Michael Tutto bene in casa? Mi chiedo se sia stato Michael Comunque fresco Sarà stato lui? Ma basta con queste stronzate Cos'è questa? Premio mentore dell'anno A me piace un sacco come Jacob Michael No Mate Eh Bella domanda Dicevo mi piace un sacco come Michael prende per il culo la situazione You classy fella You classy fella Hmm Knives all gone Hmm Chissà dove sono Michael was under siege Ma mi sorprende che sia sopravvissuto Ma la domanda è È davvero Michael che ha combattuto? Guarda quanti DVD Michael Michael? You in there mate He could be in there bleeding out Or worse Where would you put house keys? Jesse's note says she hung up the keys but no joy Hmm Where are they? I see Keys got knocked off the hook in the struggle Duh Che culo comunque Mallevate Comunque lo spadone mi dispiace Ma non è buono Non è per niente buono lo spadone Scopri dove vive Jesse Non abbiamo tempo Donna mia Why would Michael have a map to a mood Yeah Michael It looked like survivors had raided your house Oh hey Michael This is Roxanne Kwan If just they're studying Could you tell her to be back here by eight I don't want her to miss the party Um Probably best you don't come though After you know Ok Bye Wow Certo che sto poveraccio Certo che sto poveraccio lo trattavano benissimo eh Nice work Michael No ma davvero bravo Michael Non so come tu abbia fatto però complimenti Comunque devo dire che il manganello No as good No as good E lo spadone pure Lo spadone pure Abbastanza deludente Bingo Ma scusami Non ho tempo di controllare tutti i biglietti Poi ritorni qua e lo trovi Ma va Fa 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 Apriamo tutti gli shortcut Che non si sa mai E proseguiamo Devo arrivare qua dentro Fatto Facile Ehi là Sto cercando Michele Bella pizza Te ne do una Non ce le sono Non ce le sono E tu E tu E tu Mi casa E tu E tu Mi casa E tu Mi casa Abbiamo compagnia Trovai i jeans Mettiti i pantaloni E se lo dice lui Fammi indovinare Esatto Ecco qua Via Aspetta E ho capito Prima i gate E poi Da dove è apparso quello E poi I zombie Ho capito anch'io Ma dobbiamo trovarlo Aspetta aspetta Porca puttana Dov'è la batteria Allora Via da lì voi Prima Prendi sta batteria Oh Questo che cos'è Non è il momento Non è il momento Direi Vero Dunque Porca misera Ma stai Buono Porca puttana I calci No però Ecco qua Risolta Voi Là dentro No Uff Oddio mio Ok Siamo sopravvissuti Un'altra volta Ecco fatto Dunque 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 Abbiamo bisogno Di un'altra batteria E credo Che la troviamo Là dentro Spero Che la troviamo Qua dentro Eccola qua Dentro Vai Forza Forza Seguitemi Ma scusami Possono Entrare Benissimo Da qua Dai Forza Belli Su Su Come prima Tutti Qua dentro Tu Tu però No No Volevo Volevo farlo saltare In aria Ecco fatto Fantastico Fantastico E' così che si risolvono i problemi A Belair Parata Piuttosto la schivata Davvero Scusami se devo parare E schivare Perfisco schivare Scusami eh Come la disattivo L'elettricità Qui Vediamo se posso fare qualcosa Di utile con la katana Potrei fare una katana Di fuoco Ho qualcos'altro che sarebbe sensato fare di fuoco Non credo Il coltello Ma come ho detto Preferisco di no Certo non è il migliore Dei potenziamenti che potrei scegliere al momento Ma Iniettante da mischia non comune Uh Pelenoso Davvero Fa vedere Danni sanguinanti Ah Cavolo Pensavo fosse Pensavo fosse quella tossica No E però sul coltello Questo potrebbe essere buono Potrebbe essere buono Fammelo mettere Non me lo fa mettere Che peccato Benissimo Posso entrare Blocca la porta Poi No Poverina Sì Una volta Porca troia Lo sapevo Di cosa? Di alcol? E c'è una scarpa là dentro Non c'è la lead singer Of gods On whisky A has been Damn right The correct term Is was green The Big bean Dead bean Ok Ok Jesse might know Oh She's not here I'm not getting that Feeling of disapproval Another note Dear mother If you must have sex At 3 in the morning Please can you Refrain from Moning and screaming Quite so loudly That Was you Say she's gone up the hill To help a friend You're doing Out there Hello Hey She's smart She's in med school Mmm She's real sneaky too Every time I turn around She's right there Potrebbe non esserci più Però vostra figlia Looks like We're gonna have The place To ourselves No I need to get my head together Hey Come on She's gonna be okay They're gonna find her Come on Let's like A plan And shit Yeah Play to our strength Thank you Non so Perché mi aspettavo Gli desse uno schiaffo Al culo So che non c'entrava Però Questo che cos'è Il bigliettino Grazie Ottimo Va bene Io intanto Guardo dentro casa Se avete qualcosa di buono E dubito Che ci sia qualcosa di utile Vero Dai I ciupa ciupa La marijuana Porca miseria Quelli mi Li ho provati anche io Non sono male Dove ti trovi Di là Qua sopra Benissimo La madonna Che urlo Porca miseria L'ho diviso in due Dividi Eight Impera No Ok Lui è meglio Averlo eliminato subito Che Non si sa mai Che si risvegliava Ehi C'è qualcuno Qua dentro Bella casa Eh questa musica Giovane Non la possiamo capire Noi che siamo vecchi Qui c'è anche un generatore Mi servirà qualcosa Sta batteria No Porca troia Posso averlo questo? No Peccato Fucile modificato Fatto Io sta batteria Non so neanche Se mi serve Ma me la sto portando In giro ovunque Spero sia ancora viva Beh Almeno questo Ha funzionato Dai Speriamo Che ci sia ancora Un dove si trovi Però davvero Sta musica è proprio Orrenda Qualcuno me la toglie Dobbiamo fare attenzione Potrebbero esserci Trappole Veramente ovunque Oh è ad esempio Aia Attenzione Alla porta Che non si sa mai Che c'era Un altro colpo di fucile Jesse Ecco fatto Kaboom Kaboom Aspetta che Oh finalmente Mamma mia Basta con sta musica Terribile Jesse Ciao Mutilante da mischia Non comune Ciao Aspetta un attimo Aumenta leggermente I danni fisici Colpi in sequenza Infettano uno zombie Applicando indebolimento Ottimo Vediamo come va Oh Carino Comunque Ciao Ciao Jesse Sentiamo che cosa Esatto Sono morti Ieri Beh non è tanto Differente Dalla realtà Beh Mi chiedo una conversazione Fra lei e il tizio Come si dice Furtivo del gioco Dunque Segui Michael Al Monarch Studio Non c'è un venditore Da qualche parte Per caso Missione disponibile Eh lo so Ma io vorrei cercare Un mercante Sai Vabbè Andiamo a vedere Questa missione disponibile Magari di paura che Abbiamo trovato Loro figlia Ci possono essere Di qualche utilità Ehi bellezze Vostra figlia sta bene E infatti è già qui Ciao Jesse Lo so Grazie amico Io sono Finalmente Ho trovato il mio telefono Ma io Ehi Roxy e io Stiamo fuori È come un lavoro Full-time Ehi Non ho mai mai stato E' una cosa E Non ho mai fatto E' mai più Ho qualche Whisky Man Ti hanno ispirato Alcune delle Le pezze Fanart In storia Ehi Dacci piano No No Oh Farouk Bless you Farouk Farouk è nostro productor L'azienda Nostra Totally Obsessivo About Discografie Bene Eh esatto Non penso che sia una bella idea Ci vado io piuttosto Esatto e sono anche quello che deve livellare Sì se sono ancora vivi Eh esatto Il ritorno del Rex E tu chi cacchio sei scusami Un mercante Uh progetto Perfezionismo Grazie E altri fusibili Che comprerei tutti quelli che hai Visto che abbiamo comprato giusto giusto un fusibile Qui a 70 metri c'è un posto dove usarlo Vediamo cosa possiamo ottenere Ad esempio È proprio esattamente dove ci ha chiesto di fare la missione Madonna mia Che colpo triplo Eccoci qua Aia Corridore elettrico Penso proprio Che ti farò fuori Eccolo qua dove dobbiamo mettere il fusibile Però qui c'è un bel po' di olio per terra Dov'è la mia arma di fuoco? Eccola qua Mettiamo il fusibile Perché non mi fido Assolutamente Ecco qua Ho preferito evitare di usare il fuoco qui Prima che saltiamo in aria Oh c'è da dire che Dove usi i fusibili Si trova Sempre un sacco di roba Un catar Non male E ovviamente Inventario pieno Dovrei togliere tutti i consigli Dovrei toglierli Perché continuano ad apparire ovunque Allora Calmi tutti Ecco fatto Sapevo di Di dover dare io fuoco a quella roba lì E invece ci ha pensato lui prima Vediamo se Rex è in casa Ovviamente Dunque Potrei usare una batteria Per fulminare tutti Il problema è che mi sa Che la batteria è esplosa Ah ciao Dave Porca miseria che male Andate via E addio Dave Benissimo Anche quest'arma è andata E dunque è arrivato il momento Di iniziare a liberarsi Di un po' di armi inutili Chissà se ancora c'è qualcuno In casa Ciao Farouk Ciao Farouk Addio Farouk Credo che questo fosse il suo ragazzo Beh lo era E io ho l'inventario pieno Ecco fatto Dove sono gli altri? Ti prego dimmi che hai Una pistola Cioè oddio c'è l'aman Ovviamente non me l'ha droppata Ecco fatto Disattiviamo il generatore Altro Secondo session Dei dischi Oh Quanta gente Allora aspetta un attimo Beh non era quello che Mallevate Ecco fatto Tutti in una botta sola Il terzo disco E' questo? Ottimo Ok vediamo Una spada da ufficiale Ancora tu Ma basta Ma vai via Ancora Ma che palle Ma quanti sono questi? Ma che davvero Dai Forza Dai 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 Vieni qua Ah che soddisfazione Kabum Molto più semplice così Ma dai ancora Cos'è che c'è scritto? Cos'è che c'è scritto? Pupilla di Michael Benissimo Non so che cosa ho preso Chiave della cassaforte di Michael Morto? Morto? Beh lo è adesso? Bastone di Bo Direi che piano piano Iniziamo a togliere tutto ciò che è debole Ad esempio Ecco qua Certo che Oh E' sempre un attimo Ma appare Il bossettino della zona E piano piano inizia di nuovo A riempirsi tutto quanto la mappa Di quel singolo nemico Ehi ubriaconi belli Vi ho trovato i vostri dischi No dai si è pure dimenticato Ovviamente Morto pure lui Esatto Tieni Già fatto Vai vai Sono contento per te Mi dai un progetto O un'arma O qualcosa Con dei capelli stupendi Oddio Bello però Aspetta Tienilo un attimo lì Segaccio ad asta polgorante Grazie a tutti 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 Grazie a tutti.